Il Ministero della Salute ha annunciato l'immediato stop alla vendita di un lotto di confezioni di fiammiferi spec da 90 grammi per possibile rischio microbiologico per i consumatori. L'allerta alimentare, lanciata attraverso il portale del Ministero dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari, riguarda un prodotto tipico del territorio altoatesino, ma in questo caso realizzato nel Parmense, affumicato con legno di faggio e commercializzato da MDSPA. Come recita l'avviso datato 9 aprile, il ritiro delle confezioni di spec si è reso necessario per la presenza di listeria. Il prodotto interessato dall'avviso di richiamo è quello con il lotto 41016. Lo spec ritirato viene prodotto a Medesano, in provincia di Parma, nello stabilimento ubicato in via Santi 1.